La posizione del Governo italiano sarà espressa dal Ministro Gualtieri, al quale faccio tanti auguri in generale. Per quanto riguarda la Commissione, io penso che i cambiamenti che sono stati in linea generale, non in tutti i dettagli, concordati già nel giugno scorso, io penso che non penalizzino nessun Paese e quindi non penalizzano neanche l'Italia. Si tratta di introdurre nel sistema un nuovo ombrello protettivo, aggiuntivo, in caso di crisi bancarie di un livello particolarmente acuto. Non vedo perché questo debba penalizzare alcuni Paesi membri e non capisco perché dovrebbe danneggiare l'Italia. Un rinvio, quali ripercussioni potrebbe avere? Questo lo valuteranno durante l'Eurogruppo, lo valuteremo durante l'Eurogruppo, ne parleremo stasera, spero non troppo tardi.